queste ok si spostano aspetta andiamo un attimo qua se faccio così queste tornano indietro? ok andiamo andiamo qua sopra questo dovrà scendere questo scende ok dai andiamo direttamente qua tanto il percorso io l'ho fatto fare barchette? oh c'è un altro ricordo è stanco è sceso adesso dal treno è stanco barchette si girano barba ti ho riccio la barba vediamo cosa ricorda cosa ci fa scoprire della storia ecco lui guarda malinconicamente una barca forse lo vorrebbe viaggiare è stata la festa di compleanno della figlia però che lo chiama vuole che gioca con lui ma lui è triste ha rapperso la moglie probabile oddio cosa sta bene triste triste si triste e commovente molto commovente siamo arrivati allora allora andiamo subito di capire una cosa facile così però dobbiamo salire di là e scendere qui se scendiamo cadiamo di qua non va bene quindi anzi mettiamo qua allora questo va su no però tu vai sull'acqua e cadi dall'altra parte no non va bene ah eccolo perfetto così poi andiamo qua riuscendo di qua ok perfetto e andiamo di qua comincia a essere un pochino più complicato allora questo ah se noi saliamo di qua allora vecore ah ecco sali qua ferma fermo fermo qua perché questo non scende dobbiamo tirare un po' più su questo ok andiamo di qua prego le scendono giù noi andiamo di qua queste dove vanno da nessuna parte queste non si spostano si sposteranno ecco ecco fatto allora perfetto panchina dai su tanto lo so che ti riposi perché sei stanco fate una bella camminata quindi un bel riposino e siamo tutti felici eh classico niente lampione si è fatto a notte si ok cosa ti ricordi adesso che è partito quindi sei partito e tua figlia l'hai abbandonata si ma sei andata alla ricerca di cosa oddio ma è trippato voglio giocarlo tutto subito voglio saperlo voglio sapere la storia questo è il faro allora come facciamo qua a queste costruzioni mi sembra non si possono no 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 sali 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 questo dietro niente e qua come facciamo ah qui devi andare ma neanche no siamo questo c'è non capisco il faro no allora allora vabbè saliamo un attimo qui forse devono da qua lo vabbè e come raggiungiamo quel posto e come raggiungiamo quel posto qua non si muove eh questo non scende questo non va no non c'è sto sopra eh lo vabbè lo fa spostare lo fa spostare lo fa spostare lo fa spostare certo poi andiamo solo qui come ci vado non capisco aspetta un po' un attimo ma tu perché ti sei spostato qua vai qua oh ma vaffan bene allora torna qua ma prima mi pare che faccia sto movimento però non andava a incastrasse così vabbè non ce l'ho fatto caso perché mi ero bloccato lì non ero tornato indietro ecco perché col mouse avevo trovato la fine corsa sullo schermo dove torna giù e riterò nassù ok dai perfetto aspetta 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 ok dai dove vai dove vai dove vai qua tenda qua qua aspetta oddio così vieni vieni oh scendi ma è qua scusa è qua fanno passo per passo non era unito bene ok perfetto allora ritorna qua tu gioca vedo che mi rodo mi rodo lì addosso no però pensa che vado a farlo là perché dopo non ci passo un po' oppure qua no eccolo eccolo tu te ne vai ok e io vado qui perfetto andiamo qua andiamo qua oddio oddio vedi allora lui voleva partire per andare in un posto che non si sa dove e lei non vuole mentre è incavolata la bambina parella guarda con stupore è il temporale no tu tu non ti promuove ok è inciù è bloccato sì ecco l'abbiamo fatto cadere ecco quest'altro e come faccio a spostarlo ma questo non si è sposta questa normalmente non si è sposta perché ormai ci sta sopra ci sta sopra se è un pape su qui Perché? Allora, se mi sposto qua Poi quando sto sopra non posso spostarmi Eh, non posso spostarlo Mentre questo sì Ma non va Allora Cos'è? Aspetta qua Sì, vado qua Questo va giù, va qua Eh, però non ci posso andare Come faccio? Ah Questo non posso spostarlo Perché questo non va più su? Allora Sali sopra qua Eh, tu più giù non ci puoi andare Tu più su non ci puoi andare È tutto bloccato Allora Se questo è tutto bloccato Con sto muretto Guarda un po' Che cosa comporta quello? Non capisco So tardo Non capisco Nope Allora Allora, questo era così Non so cosa fare Come faccio a superare sto muretto? Dovrei raggiungere questo Quindi se io Aspetta un attimo Se io questo lo posso Portare qua giù Eh Che come ci raggiungo? Come lo raggiungo? Posso raggiungere? E questo più su non va Al massimo così E questo si esce qua Però Destra e sinistra non va Solo su e giù Ma non va Come faccio a superare sto muretto? Ma vaffan bene Va bene Ok Sono tardo Vai Torna su sto coso Vai qua Vai Vai Non Sì Ti ho qua Voi Tio qua Voi Tio qua Ma no, troppo Che palle Ok No, questo non fa niente Quindi ho forzato da qua Allora, questo No, questo è qui Questa parte Ok Una volta che lo so Però per scendere No No, no, no Dove vai? Dove vai? Ah, questo vecchio Dai Oh Che è successo? Perché si è bloccato così? No, non mi chiede Ma dai Oh Non scrollava più l'immagine E' questo Ma scusami Perché questo non l'ho spostato prima? Ma sono incoglionito veramente Ma c'è un grosso problema io Aspetta, fermate qua Poi dopo questo Non sale Questo non va Questo non va Vabbè Sali qua Assolutamente no Ma per scendere Per scendere Cosa cazzo Devo fare per scendere Come scendo? Così? Vabbè Me sto incastrato Ho delle stronzate Assurde Dai Scendi così Ole E adesso scendi Qua Yeah Dai Ops Dove sta 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 cosa? Allora Via qua Sce Dai fermo Fermo Qua devi venire Qua Qua devi venire Qua Pescio Maledetto Qua Buono Allora Questo Scende Scende Ole Che l'altro Penso Non serve a niente Eh no Serve a niente Ancavolo Dovro Per questo De muro Vabbè Vabbè Ok Come sai un attimo Qua E no Di Mi Allora io salgo qua Così Mi libero lo spazio E posso farlo scendere Forse Vai Vai Sei ferma Alciù Vai Ah ok Allora Così Poi così Ok Oddio Si è lodato Dai Uff Questo Io penso che so tardo Certe volte Ok Ci siamo Cosa facciamo? Niente Foverello Forse Si angoscia I guardi I guardi Continuano a essere Cominciano a essere Un po' più angoscianti Lui se n'è andato di casa Lui se n'è andato di casa Questa è la figlia Che lo guarda in lontanazzo Ma torni indietro Ho fatto un culo così Per arrivare fino a là Ho fatto un culo così per arrivare fino a là